che ci ha consentito di affrontare nuovi impegni più seri diciamo e quindi anche di aprirci a nuove esperienze tra l'altro anche quella di aver potuto affrontare questi concerti di Natale in sei paesi della nostra Barbaggia per questo ringraziamo anche la comunità montana che ha sponsorizzato i concerti di Natale ci auguriamo di poterci incontrare di nuovo ringraziamo il coro Lorenzo Perosi di Sordono che ci ha onorato della sua presenza chiediamo altri due minuti di pazienza visto che è bisogno di fare l'aspetto del sacrificio di cui siamo grati di averlo sopportato ecco un grazie in particolare al Presidente della comunità montana l'assessore Gianni Vessi e un grazie soprattutto a tutti gli avizzesi che con generosità davvero come ne riusciamo ci hanno riparato dei nostri scorsi e hanno contribuito all'organizzare questa serata a loro dedichiamo il nostro titolo di sconciamento prima di accomunarci con il coro di Sordono per fare un finale e ci auguriamo dei due di tutta la serata grazie vorrei dire due parole di ringraziamento innanzitutto al coro di Sordono che ha conosciuto per esempio a questa parte gli uccelliari e speriamo che questa umicizia possa portare a un tipo di lavoro a ralleo per farmi rinforare un saluto e un ringraziamento soprattutto anche al collega Rizzo che pur in poco tempo sta soprattutto diciamo adattati a quelle che potevano essere le mie direttive o le mie prese a volte e vi ringrazio anche per una affettosa e calorosa e calorosa e quindi chiudiamo questo nostro concerto di Natale nel 1993 con un canto d'assieme e quindi pregherei solo di solo e voglio riprendere il vostro sull'altare e vi diamo tutti coloro che volessero partecipare a tutti coloro che potresto dopo il nostro accompagnamento a rinforzare vi ringraziamo per una volta e vediamo l'appuntamento al prossimo impegno del coro Pachis Upli se perché no del coro di Sordono di Dio grazie e comunque ringrazio anche a nome del coro Don Paolo che comunque senza il suo non senza il suo applausi allora finiamo di ringraziare anche la nostra apunista Ornella è una cosa che mi ha dimensi che sia stata la nostra manifestazione alla quale un piccolo maggio è una cosa che mi ha dimensi è una cosa che mi ha dimensi che il cielo ha dato di una via che non si guarda una Roma benedita si oltre in alto è una cosa che mi ha dimensi Grazie a tutti. Grazie a tutti.